La ASL di Arezzo sarà la prima in Toscana e una delle prime in Italia ad attivare un'unità operativa per il cancro alla prostata e all'apparato genito urinario. L'iniziativa nasce a seguito della disponibilità per il trattamento di queste patologie, in particolare di quelle prostatiche e renali, un numero crescente di nuovi approcci terapeutici, chirurgici, radioterapici e farmacologici, che favoriscono un approccio multidisciplinare al trattamento di queste patologie che nella provincia di Arezzo coinvolgono oltre mille persone ogni anno. Arezzo ha bruciato i tempi, ha anticipato questa scelta regionale ed oggi è in grado di dire noi partiamo e questo mi sembra sia molto importante e che forse derivi anche non solo dalla presenza in questa azienda di professionisti competenti, di professionisti che hanno tutti i numeri per fare questa attività, ma perché in questa azienda c'è una forte attività di ricerca clinica. Anche in questa occasione non mancheranno il contributo diretto del Calcit e della Fondazione Cesalpino, che cofinanzieranno i contratti per i medici oncologi aggiuntivi necessari all'attivazione di questo innovativo servizio. Noi abbiamo messo a punto un sistema integrato di cure che valorizza e utilizza appropriatamente la chirurgia e la raccorda alle nuove terapie farmacologiche e alla radioterapia che è molto molto importante in questo campo. Questo risultato, come dicevo per primi in Toscana, è legato soprattutto ai nostri professionisti che, devo dire, hanno saputo raccordarsi fra loro, farlo con entusiasmo, con voglia di fare e così, a pochi giorni dalla delibera regionale che promuoveva questa iniziativa, noi eravamo già pronti.